Il robot Saeb HSD ti dà significativi vantaggi economici e fiscali. Un credito d'imposta del 50% è veramente importante. HSD offre in definitiva notevoli vantaggi operativi, con costi di investimento veramente limitati e garantisce un ritorno dell'investimento, un ROI, molto interessante. La media dei ROI è dell'ordine dei 2,4 anni. Questo perché il recupero di produttività ottenuto con il robot permette di avere un pareggio dell'investimento in 2,4 anni. Naturalmente il nostro personale tecnico è a vostra disposizione. Quando volete siamo pronti e ben disponibili a visitarvi e ad effettuare insieme a voi una breve ma precisa analisi della vostra farmacia. Sulla base di questa analisi formuleremo un ritorno dell'investimento specifico che vi mostrerà gli grandi vantaggi di aumento di produttività che otterrete.